Oggi con Tallotti parliamo di quella che è la grande funzione sociale dello sport. Lo sport che molto spesso rappresenta una possibilità di evitare la droga, di allontanarsi, ma anche l'alcol. Insomma, lo sport non è solo un qualcosa di fisico, ma è anche un modo per vivere sani. Io l'ho ribadito più volte anche nel mio programma, effettivamente, che il ruolo che ha lo sport oggi è un ruolo sociale, è quello che le società svolgono nel nostro territorio, ma in tutto il paese e direi anche in tutto il mondo, è quello di proprio dare un'opportunità diversa a volte a delle persone che non potrebbero avere questa possibilità. Quindi proviamo a immaginare quello che succede con i calciatori brasiliani che escono dalle favelas, per esempio, ma senza arrivare lì. Anche solo la crescita culturale di un ragazzo che la mamma lo accompagna al campo sportivo e al campo sportivo trova una società, ma trova un allenatore, trova un gruppo di persone, un gruppo di amici, trova qualcuno con cui parlare, con cui confidarsi, trova non solo la fase agonistica, ma trova un ambiente preparato dove si parla di cose sane, si parla anche di come arrivare primi e ti insegna anche a perdere. Perché lo sport è importante proprio perché nella crescita di un ragazzo, di un adolescente, insegna che si può perdere, insegna, e io vorrei che insegnasse sempre di più, il rispetto per l'avversario, il rispetto per chi non è come te, chi crede magari in un altro Dio rispetto al tuo, chi magari viene fuori da un'altra situazione sociale, magari più disagiata, il rispetto per le ragazze, perché ad esempio chi fa atletica si allena contemporaneamente con le ragazze, ci sono dei progetti del CONI ma anche dell'Oxen e ci saranno altri enti di promozione sportiva e io vorrei che fossero sempre di più che utilizzano lo sport come mezzo di comunicazione contro la violenza sulle donne, contro la xenofobia. Io credo che oggi lo sport abbia bisogno di una rappresentanza politica importante, perché il ruolo che svolge non solo a chi lo pratica ma alle famiglie di chi lo pratica e anche a chi non lo pratica solo perché lo guarda, perché quando ogni 4 anni guardiamo le Olimpiadi, o ogni 2 se pensiamo anche a quelle invernali, ci piace vedere i nostri ragazzi, gli azzurri che sorridenti vincono la medaglia o anche solo ci provano. Quella cosa lì è il frutto di una programmazione di tanti anni. Un atleta va alle Olimpiadi e prova a prendere una medaglia con 10.000 ore di allenamento, non con una o con due. Quindi ci vogliono diverse cose ma ci vuole, secondo me, a mio parere, una rappresentanza autorevole, politica, che sappia di che cosa si sta parlando. E questo è quello che io cerco di mettere in campo e certo di portare in questa mia città, Udine, che in qualche modo mi ha dato tanto e secondo me può ancora dare tanto alle nuove generazioni.